Rimpasto della giunta Basile all'orizzonte per fronteggiare le emergenze di Scalea. E' il primo cittadino stesso a confermare lo scenario tratteggiato nei giorni scorsi dalla nostra emittente. Al momento, ha precisato Basile, sono in corso delle consultazioni interne, oltre che con autorità sovracomunali e con le forze sociali di Scalea, al termine delle quali deciderò come intervenire. Dalla semplice rotazione degli assessori agli incarichi esterni, dunque, tutte le porte restano aperte. Basile ha affidato a uno scritto i motivi del suo intento. Nel testo, il sindaco di Scalea conferma lo stato delle casse comunali descritto con le parole «drammatica situazione finanziaria», della quale, scrive Basile, «tutti conosciamo la genesi e che ci costringe a un duro lavoro per scongiurare il dissesto». L'inquilino di Via Plinio il Vecchio poi parla di consiglio comunale debole, schiavo dei litigi e privo di proposte e, a nome della maggioranza da lui guidata, ricorda di aver inviato la ricostruzione della vicenda alla procura della Corte dei Conti. Una reazione è quella di Basile all'ennesimo tentativo di far vacillare e cadere la giunta di Scalea. Il tutto, scrive ancora, senza tener conto delle eventuali conseguenze, ovvero il commissariamento del comune. Un commissario, precisa poi Basile, non terrebbe in vita le ordinanze che garantiscono il servizio idrico e che, di sicuro, conclude, procederebbe alla vendita di tutti gli immobili e beni comunali. Dunque da Pasquale Basile non una semplice richiesta di cessate il fuoco, ma un invito alla partecipazione attiva e propositiva per risolvere i guai economici di Scalea. Un invito che potrebbe però cadere nel vuoto.